Io mi vaccino e ci vado gratis, come? Con il taxi, basta che il cliente, un over 65, un appartenente alle categorie fragili o vulnerabili, chiama il taxi da casa, noi andiamo a prenderlo, ci fa vedere all'ingresso in macchina del numero di pronotazione, noi lo accompagniamo in un punto vaccinale del comune di Arezzo, che può essere il teatro tenda, che può essere il centro affari o anche i studi medici dei propri dottori. Può richiamare anche a ritorno, quando ha fatto il suo tempo di attesa, può richiamare e gratuitamente lo riaccompagniamo a casa. Questo è grazie ai nostri due sponsor, Saima e Toscopali Fondazioni, che garantiscono un buon numero di corse gratuite. È un'altra iniziativa che dimostra la sensibilità degli aretini verso questi problemi che sono legati alla pandemia. Noi abbiamo ricevuto varie donazioni nel corso di questa pandemia, questa è un'iniziativa molto valida, che permette a cittadini che non possono raggiungere personalmente le nostre sedi di essere portate gratuitamente con i taxi, quindi di raggiungere persone fragili, persone anziane che possono raggiungere gratuitamente, grazie a questo servizio, le sedi vaccinali. Impegno moltiplica impegno, solo che noi eravamo giustamente obbligati a dare una risposta perché siamo un ente pubblico. Qui c'è invece una generosità non scontata di soggetti privati che mettono a disposizione risorse private per aiutare i cittadini ad essere vaccinati in maniera non soltanto efficace ma anche comoda e poterlo fare laddove anche la situazione personale potrebbe essere ostativa. Questo dimostra quello che io da sempre dico, cioè che il rapporto, la collaborazione, la sinergia tra il pubblico e il privato fonda il nuovo welfare che dobbiamo costruire insieme.